cucciolone e cucciolone, i cosmetici 100% italiani fino al 100% naturale, sia il tuo cucciolo a Minaturahouse non che no, lo sedativo è freddificante, e quando sei fuori casa, da oggi anche in pasquille, ovunque tu sia, per tossesenta e grassa più cucina e lavori sono ancora in corso, siamo quasi alla fine, e per Gabriele Cervilli si avvicina il momento del vento finale e il secondo dolce invece è molto semplice all'apparenza, ma poi quando l'etti in bocca diventa una cosa enorme infatti ho chiamato i piccoli ordini, perché sono le mandorle cannellate e con l'etti in bocca esplodono con un gusto che poi insieme alla ratofia, sempre bruxese, e comunque non ho parole